Sulla croce Cristo ha cambiato radicalmente il destino dell'umanità perché il Signore non si è accontentato di perdonare i peccati dell'uomo, ma li ha presi su di sé. L'amore di Dio ha raggiunto l'uomo nel punto più lontano in cui si era cacciato fuggendo da Lui, e cioè nella morte. Lo ha sottolineato il predicatore della Casa Pontificia durante la celebrazione della Passione del Signore. Nella Basilica Vaticana, padre Raniero Cantalamessa ha rimarcato che la giustizia di Dio è l'atto mediante il quale Dio rende giusti quelli che credono nel figlio suo. Non è un farsi giustizia, ma un fare giusti. Il Giubileo straordinario indetto dal Pontefice è dunque il tempo propizio per rendersi conto che l'opposto della misericordia non è la giustizia, ma la vendetta. Un sentimento feroce e responsabile della maggior parte della sofferenza che c'è nel mondo. Pensando ai drammatici fatti di Bruxelles, così come le tante difficoltà che vive oggi la società, come la crisi del matrimonio e della famiglia, padre Raniero Cantalamessa ha ricordato una volta in più che solo la misericordia può salvare il mondo, e che per quanto lontano possa spingersi l'odio degli uomini, l'amore di Dio è stato e sarà sempre più forte. Grazie Grazie Grazie